L'avete già ucciso anni fa, capitano? E spacchiamo tutti gli orologi da allora? La piccola peste non lo sapeva. Al museo di corsa. Non ti fai male! Stavolare le gambe di legnaio! Comprate vappe del tesoro, nuovissime e esclusive! Vappe! Vappe! Vappe del tesoro! Orologi rotti. Ognuno ha battuto il suo ultimo tac. E ora tutto va bene. Sta a sentire. Non sento niente. Lo so! Corretto, esattamente. Jack, la vedi questa? Vieni qui da me. La puoi prendere. Questa è la sveglia che Barbecue teneva sul comodino. Era un pirata piuttosto malfamato. Vedi, Jack? Io ho spaccato questo orologio immediatamente dopo averlo sventrato. Che spettacolo! Il suo vascello infiammato! 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 Ma che sento? Che odio! Un tic-tac! No! Muglia, fermalo! Fermo il tic-tac! Fermo il tic-tac! Non c'è tic-tac! Tic-tac! Qui non c'è niente che scappi! Mio Dio! Questo è per il tic-tio che avrebbe potuto esserci. Ah! Scusa, ma è di scontare! Prendi l'orologio di suo padre. Avanti. Anche tu lo desideri. Dagli un colpo. Coraggio. Questo è per non avermi permesso di fare le bollichine nel mio latte al cioccolato. Ah! Corretto! Bravo, bravo! Che fioci da! Meravigliosa, ne vero? Questo è per non avermi mai fatto saltare sul letto. Fermai il tempo a non permettergli di andare avanti. Per avermi sempre fatto promesse senza mai mantenere. Per non aver mai fatto niente con me. Per un padre che non c'è mai, c'è mai, Jack.